Meno 33,6% di nascite dal 2002 al 2020, un vero crollo di nuovi vicentini al mondo, record negativo tra le sette province venete. Quale elemento ha condizionato la società berica in questi primi anni del millennio? La paura che nasce dal fatto di percepirsi come realtà forte, realtà anche economicamente e socialmente forte, è che oggi non è più così. E quindi la paura di perdere un vantaggio che si aveva, che ti porta un po' a chiuderti. Ecco, allora io mi chiudo nelle risorse che posso spendere oggi e da questo punto di vista un figlio non rientra proprio dentro a questa prospettiva. Sono venute meno alcune certezze. La solidità delle piccole imprese, delle banche, la vita di comunità. Da qui la chiusura in se stessi. Sempre generalizzando, c'è più l'idea di una vita che continua che è la mia personale. C'è una sorta di individualismo che ha portato a degli aspetti positivi, ma anche a questa perdita del senso della società, della comunità. Avere un figlio vuol dire avere in mente una comunità, la mia che continua anche oltre a me. Magari invece il rischio oggi è di pensarmi io come al centro della comunità.